Lei oggi ha lanciato un forte messaggio, l'autonomia trasformatasi da prerogativa in privilegio. E' stato così purtroppo, per 70 anni doveva essere una prerogativa, una straordinaria opportunità di crescita per la Sicilia. Quando nel 1946 era l'ultima regione d'Italia per le vicende belliche, per il fenomeno della riorganizzazione mafiosa, del banditismo, sono passati 72 anni ed è ancora l'ultima regione d'Italia. Allora non è colpa dell'autonomia, è colpa di chi doveva utilizzarla in un certo modo e l'ha utilizzata in un altro modo. Invece che essere una prerogativa è diventato un privilegio, invece di essere una prerogativa per tutti è diventato un privilegio per pochi. Ora dobbiamo correre ai ripari. Non possiamo e non dobbiamo cancellare l'autonomia, non possiamo e non dobbiamo rinunciarci. Si tratta semmai adesso di portarla alla revisione e di adeguarla al mutato contesto nazionale ed internazionale. Perché quando è nata nel 1946, ma scritta nel 1945, non c'era ancora la Repubblica Italiana e non c'era ancora l'Unione Europea. Ecco, questo significato oggi assume la ricorrenza qui ad Agrigento. Anche la vostra azione politica è fortemente improntata sulle tematiche dell'autonomia, defiscalizzazione della benzina e poi ancora insularità e rinegoziazione degli accordi con Roma? I temi non sono nuovi. Il problema è che non sono stati mai affrontati con ferma determinazione. Noi pensiamo di poterlo e doverlo fare. È chiaro che non tutto andrà in porto, ma vogliamo almeno provarci. Vorrei riferirmi ai fatti di questi giorni sulla cronaca. È stato anche presidente della commissione antimafia. Allora, cos'è la mafia? Cos'è l'antimafia? La mafia la conosciamo già. L'antimafia pure. Dobbiamo distinguere l'antimafia vera dall'antimafia finta. Al di là di questa vicenda delle ultime ore, voglio dire che da anni c'è all'interno dell'antimafia un filone pericoloso quanto la mafia. E uno dei pochi ad averlo denunciato in aula è stato proprio il sottoscritto da presidente della commissione antimafia. Insomma, voglio dire che l'antimafia in Sicilia è stata una industria, con le sue ciminiere, con la sua redditività. C'è chi ha costruito carriera con l'antimafia, anche in politica, e c'è chi invece ha offerto la propria vita sul fronte dell'antimafia vera. Grazie a tutti.